Ciao axisti e bentrovati da William Stravato sulle pagine di Axe. Di mese in mese proporrò degli argomenti interessanti riguardanti la chitarra rock fusion ed intorni. Questo primo video completa la lezione che troverete su Axe numero 172 rubrica Shred di William Stravato. Buona visione e rock'n'roll. Ciao! Grazie a tutti! 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 Unito!